dai che sei esperto, con la sinistra sempre bello qua la sinistra farà mica fatto questo si è una cagata oh Quoi? La valletta qua è una figata bella impegnativa bella fisica si si finalmente ho fatto la salita da olera in bici prima volta senza scendere è lì la croce guarda lì metti il casco che andiamo niente da fare abbiamo perso dagli uno scossa col taser andiamo stefano e andiamo giù a fare l'agostini e adesso vi divertite agostini wow wow andiamo sinistra andiamo andiamo io freno quando c'è gente este agostini prima volta con le bike agostini pino siamo ancora agostini però è già croccantina la storia ciao siamo in cinque grazie ciao ho ho occhio è bello aggressivo lui andiamo di qua come la giro meglio oh 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 ho fatto la metà della fatica che faccio normalmente per fortuna che ho gonfiata no ma davvero ne proprio io ho tutta l'ho usata ma chi è che la campanella io rompe per farmi sentire dalla gente ho 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 l'ho 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 a lui lo faceva scrivere lo faceva scrivere anche sui cartelli dell'a4 e mettete il salsicciotto che parfumino oh oh ah 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 qui il maneggio oh ah indecisione ah 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 c'ho l'acqua negli occhi ah c'ho l'acqua negli occhi ah 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 che bello ah 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 Grazie a tutti.